Avvocato Attolico, nell'era di internet quali sono gli aspetti più sfidanti per chi si occupa di diritto d'autore dal punto di vista legale? Dunque, con internet dobbiamo anche immaginare tutto il mondo digitale perché stiamo parlando della stessa famiglia di problematiche. Io direi per sintetizzare al massimo questo nostro incontro che il punto fondamentale dei prossimi anni sarà la gestione delle cosiddette collecting societies. Cioè una volta che ormai si è stata sostanzialmente decretata la morte del prodotto fisico e quindi non verrà più venduto nulla ma esisterà soltanto la rete e la diffusione in rete oltre al tema radio televisivo, credo che farà da padrone in questo mercato l'aspetto delle società di collecting. Questo, tra le altre cose, è anche provato dalla recente direttiva che ha istituito e ha liberalizzato il mercato. Quindi, secondo me, i prossimi anni vedranno molto impegnati gli operatori del diritto d'autore a tutelare i diritti o delle collecting societies o nei confronti delle collecting societies. Grazie, Avvocato.